Musica Si sono conclusi a San Salvo i lavori di restauro conservativo del mosaico policromo di Piazza San Vitale affidati al tecnico restauratore della sovrintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo Maria Isabella Appieri G e a quattro studenti iscritti alla Facoltà di Beni Culturali con indirizzo archeologico dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Si tratta di una importante azione conservativa effettuata in maniera gratuita grazie alla collaborazione dell'Archeoclub di Chieti e che ha visto la disponibilità della sovrintendenza per i beni archeologici d'Abruzzo e della dottoressa Amalia Faustoferri. Questa mattina conferenza stampa in comune a San Salvo alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca e dell'assessore alla cultura Giovanni Artese. Era presente proprio la dottoressa Faustoferri che ha illustrato insieme ad altri funzionari dei beni archeologici dell'Abruzzo gli interventi che sono stati effettuati e che fanno parte di una prima tranche che proseguirà nel prossimo mese di aprile. L'amministrazione comunale che valorizza il proprio patrimonio artistico e culturale? Sì, siamo impegnati in questa valorizzazione, nel recupero, conservazione e poi per la fruizione diciamo anche più ampia del nostro patrimonio che è un patrimonio interessante perché comprende l'età romana, l'età alto medievale, il periodo rinascimentale. In questo caso siamo di fronte ad un restauro conservativo del mosaico policromo romano che è un'opera eccezionale anche per l'originalità. Che può diventare, anzi diventerà sicuramente un veicolo di promozione anche turistica di questa località? Senza dubbio, sì, occorrerà naturalmente mettere in rete queste nostre risorse anche con i comuni vicini ma occorrerà anche da parte nostra come amministrazione promuovere maggiormente, soprattutto d'estate, questo patrimonio renderlo fruibile al turismo nostro estivo. E comunque io voglio ringraziare, ne approfitto per ringraziare tutti coloro che a partire dalla soprintendenza archeologica dell'Abruzzo ci hanno consentito questo restauro e che penso ci aiuteranno nell'opera ancora ulteriore di non solo conservazione e valorizzazione ma anche scoperta addirittura, come il caso dell'acquedotto romano, una esplorazione che presto ricomincerà, penso, entro un paio di mesi e che sicuramente ci porterà anche delle novità. Recuperi storici che dimostrano che la città di San Salvo non è una realtà giovane e legata solo all'industria? Indubbiamente, anzi possiamo dire che il periodo più florido della sua storia, ad eccezione della seconda metà del Novecento, è proprio il periodo imperiale romano. Quindi si tratta di recuperare uno dei momenti più importanti, più favorevoli per la storia cittadina e in questo naturalmente abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. La sovrintendenza nel territorio del Vastese è attivamente impegnata su San Salvo progetti particolari? Su progetti particolari ce ne sarebbero tanti, sappiamo tutti che non si possono realizzare però ecco con questi sistemi semplici di collaborazione, di sinergia tra la sovrintendenza e il comune ecco stiamo portando avanti il restauro del mosaico policromo romano. Che ha un valore artistico e culturale molto significativo? Assolutamente sì, intanto l'unico del suo genere è in Abruzzo perché ce ne sono altri tipi di mosaico ma non di questo genere, non di quest'epoca e non di questa qualità. E ci racconta che cosa? Ci racconta che San Salvo aveva un centro importante, questa struttura probabilmente non era neanche una casa privata probabilmente era un edificio pubblico, quindi aperto a qualche gruppo, a qualche associazione però questo fa capire che c'era una grande città con edifici pubblici, non solo privati è un quadro che fino a pochi anni fa non era pensabile. Ridà anche dignità storica a San Salvo come città? Oh sì, assolutamente sì, ma San Salvo la dignità storica l'ha recuperata da un pezzo tra l'altro ha una dignità di storia lunga, di storia di lungo periodo perché noi abbiamo capito che intorno all'attuale San Salvo c'erano necropoli già dal VI secolo questo vuol dire che questa zona era abitata dal VI secolo avanti Cristo quindi diciamo è una storia molto lunga. C'è la possibilità anche di valorizzare questo patrimonio anche ai fini turistici? Oh sì, magari sì, certo, però ci vuole di nuovo molta sinergia Noi facciamo la parte nostra, noi cerchiamo di valorizzare per quanto riguarda la parte che ci compete però ci sarebbe da fare un gran lavoro di promozione di questo patrimonio e questo chiaramente è demandato agli enti locali. Maria Adelaide Rossi è la responsabile del restauro del mosaico di San Salvo ma possiamo parlare per conoscere di più gli elementi caratterizzanti di questo mosaico? La restauratrice e i ragazzi che studiano archeologia classica a Chieti e che come soci dell'archeoclub hanno offerto questa loro opera di volontariato preziosa per San Salvo e anche per la soprintendenza che ha potuto con un periodo di lavorativo piuttosto contenuto restituire alla città un mosaico di grande valore e niente, loro hanno dovuto pulire tessera per tessera mi hanno detto che erano particolarmente incrostate hanno dovuto quindi anche rincollare le tessere non in sede e inoltre hanno dovuto fare delle iniezioni di malta come avete visto hanno poi apportato una lucidatura con la cera prodotti quindi donne affinché il mosaico possa ritrovare un po' di quella lucentezza che aveva sicuramente in passato Un intervento a cui ne seguirà un altro? Speriamo sì di poter mettere nel programma degli interventi del restauro della soprintendenza un secondo intervento a breve, speriamo, nel corso del 2014 Simone D'Amico, Simone Pallotta, Matteo Ripalma e Ilaria Zelante sono studenti universitari della Facoltà di Archeologia a chiedere, ad annunzio, sul campo l'esperienza anche pratica per poter capire quello che sarà poi il futuro percorso anche professionale Sì, diciamo che è stata sicuramente un'esperienza importante quella che abbiamo vissuto in queste due settimane ci tengo a ringraziare l'archeoclub di Chieti, la soprintendenza e anche il comune di San Salvo che ci ha permesso di vivere questa esperienza che sicuramente ci ha aiutato parecchio e ci farà maturare dal punto di vista universitario Prima esperienza sul campo, giusto Simone Pallotta? Non proprio, perché noi abbiamo fatto anche altre opere sia di restauro alle Terme Romane di Chieti sempre con gli enti che ci hanno aiutato in questa opera ad esempio, come ha detto lui, l'archeoclub di Chieti l'università in quel caso e soprattutto la soprintendenza Noi siamo, sì è vero, siamo ancora alle prime armi ma comunque abbiamo avuto queste grandi possibilità che ci permettono di acquisire nuove esperienze nuove conoscenze Matteo Di Palma, è tutto a titolo gratuito? Sì, assolutamente sì ci siamo prestati come volontari per portare avanti questo lavoro di restauro ma anche perché in realtà non può che tornarcene indietro dieci volte di più perché a livello lavorativo come esperienza è sì gratificante ma molto formativo quindi un'esperienza impagabile Assolutamente sì Veniamo anche Ilaria, insomma anche la presenza femminile siete tante anche le ragazze che si avvicinano al settore dell'archeologia Sì, comunque anche se è un lavoro che sembra prettamente maschile comunque può, cioè anche le ragazze sono in grado comunque di poter fare un lavoro simile E veniamo anche a chi ha coordinato l'attività sul campo della soprintendenza è un lavoro che comunque appassiona soprattutto quando si ha la possibilità poi di misurarsi con chi vuole apprendere È un lavoro che appassiona e che si sceglie di fare proprio e solo per passione di solito e che dà soddisfazione quando ci sono dei ragazzi che ti seguono, ti vengono dietro e che piano piano diventano autonomi nel lavoro da fare e che si affacciano al mondo del lavoro sempre di più in totale autonomia È anche un'occasione per capire cosa succederà dopo la laurea È anche un'occasione per capire cosa succederà dopo la laurea e soprattutto che cosa vorranno fare da grandi se continuare questo mestiere o se cambiare E l'esperienza qui a San Salvo con questo mosaico che comunque ha delle caratteristiche particolari? L'esperienza qui è stata interessante Intanto perché questo mosaico, sì, sia per la tipologia che sotto il punto di vista della conservazione era molto interessante, è molto interessante e quindi abbiamo avuto la possibilità di affrontare diverse problematiche quindi per me è interessante perché ogni reperto archeologico è una nuova scoperta per il restauro Per loro è interessante perché hanno avuto la possibilità di approfondire un'esperienza che avevano già fatto alle Terme di Chieti e che comunque qui hanno visto ma sotto un altro punto di vista quindi con altre operazioni, con altri prodotti, con altri tempi di lavoro e in un altro ambiente, in un altro contesto e qui soprattutto hanno avuto modo anche di rapportarsi con la città che credo sia fondamentale e che non capita praticamente mai visto che spesso e volentieri le nostre aree archeologiche sono o in aperta campagna ma quasi mai nel pieno centro storico e quindi il rapporto col cittadino non c'è se non a fine lavoro, non in corso d'opera quindi hanno avuto la possibilità di dare spiegazioni di far vedere, il cantiere è sempre stato aperto aperto a tutti, a chiunque, bambini, adulti, a tutti sono entrati anche dei cani ogni tanto quindi a tutti è stata un'esperienza interessante speriamo di poterla proseguire Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti